Ricetta numero 41 Zuppa di pane d'uovo Questa minestra sa di poco, ma vedendola usata non di rado né pranzi di gusto straniero, ve la descrivo. Uova numero 3 Farina, grammi 30 Burro, quanto una noce Lavorate prima i tre rossi con la farina e il burro. Aggiungete le tre chiare montate e cuocere il composto al forno o al forno da campagna entro a uno stampo liscio il cui fondo sia coperto di una carta unta. Quando questo pane sarà cotto e ghiacciato, tagliatelo a dadi o a piccole mandorle. Versategli il brodo bollente sopra e mandatelo in tavola con parmigiano a parte. Dose per sei o sette persone.